Ma può un giornalista come Massimo Caputi perdere la memoria e non ricordarsi che nella Juventus giocano campioni europei come Chiesa e Locatelli, vice-campioni del mondo, come Rabiot, che Scesni sicuramente è un grande portiere e come può scordarsi quanto sono costati Bremer e Vlaovic strappati a squadre di mezza Europa a suon di milioni. E poi Kostic, Danilo sicuramente sarebbero potuti stare nella formazione dei nove scudetti. Il problema vero, caro Caputi, è che l'allenatore bravo deve essere capace, attraverso i moduli praticati e la lettura della gara, di esaltare le qualità dei ragazzi. Come si dice adesso i calciatori devono overperformare. Allegri invece crea malcontenti facendo giocare Chiesa, per esempio, in un ruolo che gli si addice poco e che ne abbassa il rendimento.